Mila, ma vuoi dire qualcosa? Assolutamente no, perché a Barbara quello che devo dire l'avevo già detto, visto che loro hanno parlato sempre dietro di me, tutto quanto, quindi sono stata chiara su tutti i video che avevo detto, quindi è inutile stare qua a ripetere le sue cose. Che c'è Federico? No, dico sia sfocata, poi dopo posso dirti una cosa Mila, poi dopo ti lamenti che noi ti votiamo, ti votiamo male, allora se tu sei all'interno di un gioco non puoi comportarti in questa maniera, specialmente con le tue colleghe donne, perché non sei né amica delle donne né amica degli altri. E tu cosa sai? Mi fai parlare? Tu cosa sai? Poi hai attaccato Dennis dicendo che secondo te la loro storia con Emy non è vera, ma perché la tua con Gianmarco è vera? A chi è che ha fatto la storia? A chi è che ha fatto la storia? Non avevamo detto... A Gianmarco io sto parlando con Mila però, posso finire parlando con Mila? C'è il diritto di parole in Italia? Ce l'ho il diritto di replica o non ce l'ho? Ma con Mila? Grazie, ok, voglio dire una cosa. No, siccome dici che c'è una storia finta, io non ho mai creato nessuna storia, è dal primo giorno che ho detto che sono venuto qui a fare solamente un gioco di divertimento, non voglio la storia d'amore, non mi voglio innamorare, voglio essere libero di fare un gioco senza essere giudicato se parlo o meno con una donna.